Guido Guidesi, grande vittoria della Lega Nord sul Salva Roma, che cosa avete ottenuto? La Lega per la seconda volta nel giro di pochi mesi ha ottenuto che il governo, due governi diversi che si sono succeduti, riterrassero il decreto Salva Roma. Un decreto che non era altro che l'ennesimo artificio contabile e l'ennesimo investimento sul comune di Roma, che è un comune al default, completamente fallito e che non ha intenzione di iniziare nessuna opera di risanamento. Per questo motivo noi oggi dedichiamo la vittoria del ritiro del decreto con gli amministratori del Nord responsabili che rispettano le regole e che rispettano i soldi dei cittadini. Ma soprattutto chiediamo al Presidente del Consiglio, che non è altro come si è definito il Sindaco d'Italia, di avere il coraggio di commissariare Roma. Che cosa avrebbe previsto il Salva Roma? Avrebbe previsto l'ennesimo artificio contabile dove ancora una volta si facevano uscire dal bilancio comunale i debiti pregressi, li si metteva in capo al bilancio del commissario, che non è un commissario vero e proprio, ma è un commissario che lavora da stretto contatto con l'amministrazione comunale e ancora una volta aveva previsto ingenti investimenti che sarebbero durati con un piano di rientro fino al 2048. Noi a questa cosa non ci stiamo, si abbia il coraggio di mandare lì un commissario vero che sostituisca l'amministrazione comunale perché in questi 20 anni le amministrazioni comunali di Roma, di destra o di sinistra, hanno dimostrato solo ed esclusivamente di sprecare soldi e fare assistenzialismo.